Vogliamo sostituire una serratura centrale per serranda con la serratura Viro 8231.9. Per prima cosa dobbiamo liberare le aste dai catenacci. Poi svitiamo la serratura. E stacchiamola dalla serranda. Utilizzando le precedenti viti applichiamo la serratura Viro. E fissiamola con quattro dadi. Stringendoli a fondo aiutandosi con una chiave. Ricordiamo che la serratura Viro 8231 è disponibile con cilindro sporgente 6 o 9 mm. In base allo spessore della serranda e che l'ultimo numero del codice articolo rappresenta proprio la sporgenza del cilindro. Nel nostro esempio installiamo infatti una serratura Viro 8231.9. Fissiamo poi le aste e i catenacci. La serratura viene fornita di serie con piolini staccati e catenacci con fori non filettati. Nell'esempio mostrato per il tipo di aste utilizzate i fori sui catenacci sono stati filettati. Proviamo quindi il funzionamento della serratura. La chiave Viro, a profilo simmetrico, consente apertura e chiusura sia dall'interno che dall'esterno. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.